Bentornati! Allora la volta scorsa abbiamo lasciato il buon Sakamoto nella prima parte della sua carriera ancorché sia una carriera che è partita decisamente col botto insomma è stato veramente un compositore di successo fin dagli esordi sia nel gruppo di cui faceva parte cioè gli Yellow Magic Orchestra sia a maggior ragione anzi dopo ancora di più con la sua carriera solistica quindi l'abbiamo lasciato la volta scorsa dopo il successo e l'Oscar vinto per l'ultimo imperatore oggi proseguiamo il viaggio allora con Bertolucci l'abbiamo lasciato e con Bertolucci lo ritroviamo 1990 quindi tre anni dopo il grande successo dell'ultimo imperatore nuovo film di Bertolucci The Shattering Sky che nella versione italiana era Il Tene del Deserto altro film molto bello con una sonora di quelle assolutamente memorabili che ora andiamo ad ascoltare il Tene del Deserto che bella è veramente veramente immortale questa musica una delle più belle scritte da Sakamoto la carriera di Sakamoto quindi prende decisamente largo anche se devo dire che le colonne sonore che rifiuterà strano molti di più di quelle che farà fa solo un numero limitato e con una sonora una quindicina nel corso della sua carriera tutte però con progetti importanti con grossi registi oltre appunto a Bertolucci di cui musicherà ancora il piccolo Buddha nel 1993 ricordiamo l'anno prima il 1992 Tacchi a Spillo di Pedro Almodovar e poi una collaborazione su due film con Brian De Palma nel 1998 con Snake Eyes che in italiano era omicidio in diretta e quattro anni dopo il 2002 con Fan Fatale appunto di Brian De Palma oltre alla colonne sonora e oltre sui dischi da solista naturalmente Sakamoto da sempre ha mille collaborazioni in ambito pop con grossi nomi con David Silvian con Iggy Pop con Caetano Veloso ma con tantissimi altri artisti insomma tanto è vero che la sua produzione è veramente un unicum diviso però in tantissimi settori in tantissimi branchi e in tantissimi stili e questo ne fa veramente un caso abbastanza unico nella storia della musica di oggi il nome di Sakamoto quindi negli anni diventa sinonimo di qualità e diventa sinonimo anche se vogliamo di quella intellettualizzazione del pop che ha fatto in modo che poi insomma quando in un disco ci fosse la presenza comunque di Luigi Sakamoto quel disco immediatamente avesse come dire un allure un senso di qualità immediata nonché di quel di quel ponte come dire di quel ponte culturale che era stato come dire la mission tra l'Oriente e l'Occidente che era stato come dire la mission di Sakamoto fin dai suoi esordi allora definire lo stile di Sakamoto è un'impresa non ardua ma è un'impresa veramente impossibile perché sono stati talmente tanti i generi in cui si è cimentato che è impossibile dargli una definizione e dire Sakamoto faceva questo però per cercare di semplificare al massimo e nella speranza che i suoi fan più accaniti mi perdoneranno appunto qualche semplificazione e qualche sintesi che devo fare possiamo diciamo così almeno io personalmente distingo la sua produzione in due grandi categorie la prima grande categoria sono le colonne sonore che a sua volta si dividono in due parti la parte come dire più minimalista quella fatta anche solo col pianoforte o con un numero di strumenti più ridotto pianoforte sassofono con gli strumenti a fiato ovviamente i sintetizzatori che non mancano quasi mai nella sua musica e d'altra parte invece il musico orchestrale musico orchestrale tonale musico orchestrale però che in cui c'è anche un uso abbastanza importante della musica tradizionale la seconda grande categoria in cui io divido la musica di Sakamoto e la sua produzione è quella diciamo solistica o comunque quella come dire generalmente che potremmo definire di pop elettronico in cui praticamente lui in questo pop elettronico e sofisticato unisce sempre le sonorità sia della musica tradizionale giapponese ma anche della musica d'avanguardia ma anche in certi casi della musica sinfonica occidentale ci sono delle occasionali incursioni nel jazz insomma per cui veramente veramente difficile da catalogare altra branca della sua musica è sicuramente l'influenza che ha avuto la musica brasiliana e la musica africana quindi anche qui mondi lontani anche se in qualche maniera collegati collegati culturalmente insomma comunque musiche sicuramente di varia ispirazione poi c'è tutta la parte di musica ambiente lounge che a mio gusto personale francamente non proprio non la gradiscono nel senso che che una qualunque tipo di musica che non sia fatta per essere ascoltata mediamente non mi interessa e voi potrete dire ma come allora la musica da film è fatta appositamente su un'immagine sì ma infatti io amo la musica da film che poi possa essere anche possa anche vivere di una vita propria e possa essere ascoltata anche indipendentemente dal film per cui è stata scritta altra parte della sua produzione la musica per solo piano lui inizia a suonare il pianoforte all'età di 5 anni praticamente il pianoforte non abbandonerà mai la sua la sua produzione lui produrrà una lunga serie di di dischi solisti di pianoforte solo o pianoforte con elettronica ma insomma in cui comunque il pianoforte è lo strumento principale lo strumento assolutamente protagonista e altro settore ancora in cui si avventura è quello della cosiddetta musica glitch probabilmente termine che a molti di voi sarà abbastanza sconosciuto è una musica non musica nel senso che è una musica fatta dagli errori elettronici che si sentono quando si registra cioè molte volte succede che si sta registrando soprattutto questo ovviamente accade nel digitale logico era diverso e magari il computer va in crash e fa un suono del genere ecco il prendere quel suono campionarlo e trasformarlo in un brano musicale dove per musicale però non intendete ovviamente necessariamente un qualcosa di gradevole all'ascolto è lo scopo principale della musica glitch che lui appunto affronta con lo stesso come dire con lo stesso approccio con cui affronta tutti gli altri stili cioè con molta curiosità con molto interesse con molto con molta anche onestà intellettuale e sempre con una grande profondità e soprattutto una grande perizia tecnica soprattutto a livello di sintetizzatori è uno che quando le mette quando mette le mani sui sintetizzatori sa quello che fa e sa quello che vuole ottenere abbiamo parlato di tutti i gruppi che Sakamoto ha volontariamente o involontariamente influenzato nel corso degli anni ma parliamo adesso di quali sono state le sue influenze quando gli venia chiesto ma insomma quali sono le tue influenze lui diceva che erano tantissime ma fondamentalmente riconducibili a tre nomi John Coltrane, i Beatles e John Cage allora non so se vi rendete conto che vi ho appena nominato tre tre diciamo musicisti insomma tre gruppi di musica estremamente diversa c'è John Coltrane e il jazz, i Beatles la musica pop e John Cage è la musica sperimentale d'avanguardia assoluta per cui insomma capite insomma che lui nel definire quelle che erano le sue influenze già raccontava parte di sé, già raccontava parte del mondo enorme musicale che aveva in sé e che racchiudeva nei dischi che faceva e poi ci sono un paio di influenze che non sono sicuro che lui abbia mai citato fra le sue principali però io le sento sempre, soprattutto quando lui fa la musica orientale con l'orchestra però io ci sento tantissimo Puccini ci sento tantissimo del Puccini appunto di Madame Abate, Raffaele Puccini, di Turandotte insomma in tutta quella parte di Puccini appunto che aveva fatto del connubio già dagli anni 10-20 del secolo scorso, quindi più di cent'anni fa del connubio tra la musica occidentale e la musica orientale anche lì la mission che Puccini si era posto come obiettivo ma non solo, io ci sento anche molto Morricone anche quello che abbiamo ascoltato prima al Tenno del Deserto è un tema che Morriconeggia e niente di male, anzi voglio dire alzi la mano chi di noi che fa questo lavoro non è stato influenzato da Ennio Morricone insomma quindi niente di male insomma anche altre fasi più percussive certi suoi ostinati fatti con gli archi ricordano moltissimo la produzione di Morricone degli anni 60 e 70 che dire quindi in conclusione che è stato anche un attivista di diritti civili un antinuclearista convinto soprattutto per gli incidenti di Fukushima che a detta sua gli aveva procurato il primo tumore che lui aveva avuto alla laringe nel 2011 tanto è vero che poi lui era apparentemente riuscito a sconfiggere questo tumore e nel 2015 aveva fatto la corona sonora insieme ad Alvanotto del film Revenant Re di Vivo che per lui aveva appunto considerando insomma che ha avuto interrompere l'attività per un anno e mezzo abbondante che insomma è che il tumore alla laringe avrebbe anche potuto avere conseguenze fatali per lui fare il film Revenant appunto Re di Vivo era come dire un qualcosa di simbolico e riferito anche a se stesso Fatale invece sarà il tumore che avrà il colon qualche anno dopo e che lo porterà appunto alla morte lo scorso 28 marzo bene spero che la puntata vi sia interessata se volete vi lascio il link alla prima parte che abbiamo fatto la volta scorsa riferito alla musica di Sakamoto vi lascio il link in descrizione qui sotto se siete su YouTube e qui sopra se siete su Facebook se la puntata vi è piaciuta vi invito a lasciare una traccia iscrivendovi al canale YouTube oppure lasciando un like sulla pagina Facebook delle Corone d'Ercole ci vediamo alla prossima puntata grazie a tutti